Carissimi, carissimi amici, lo vedete carissimi amici dove mi hanno messa, mi hanno messa qua appoggiata al muro e mi hanno detto di restare ferma così, di non muovermi mai, di restare qua, ferma così, ma io non lo so che cosa ci devo fare qua sola sola appoggiata al muro, di che cosa mi posso alimentare, chi è chi è che mi dà sostentamento per vivere? Lo vedete che sono qua appoggiata al muro, anzi è un muretto di legno, vedete? Ditemi voi, ditemi voi, aiutatemi, fatemi sapere qual è il mio destino, fatemi sapere quanto tempo devo stare qua, perché nessuno mi ha detto niente, capito cari amici? Lo vedete, lo vedete, sono tanto sola, tritta e sconsolata, voi mi potete aiutare? Vedete, vedete almeno quanto tempo ci devo stare qua, e che cosa devo fare per alimentarmi? Va bene cari amici, aspetto le vostre risposte, va bene? Vi saluto tanto tanto! Grazie a tutti!